Cinque assessori e una delega ciascun consigliere. Il primo cittadino di Colli al Metauro, Pietro Briganti, che nell'appuntamento con le urne del 3 e 4 ottobre aveva vinto ottenendo più del 63% dei consensi, ha scelto la squadra di governo che lo accompagnerà per i prossimi cinque anni. Ad Anna Chiara Mascarucci, le di preferenze, vanno tra le altre le deleghe ai servizi sociali, pubblica istruzione e pari opportunità. A Emanuela Primavera, assessore anche nella precedente legislatura, vanno il bilancio, i tributi e la promozione del territorio. Invece il patrimonio, le manutenzioni e il decoro urbano sono stati assegnati a Marco Barnesi. Fabrizio Sanchioni poi gestirà la sicurezza, la viabilità e i servizi cimiteriali, mentre Francesco Taddei la cultura, la polizia locale e le attività produttive. Infine il sindaco terrà per sé le deleghe al personale, all'urbanistica e alle opere pubbliche. Il criterio innanzitutto è stato quello che abbiamo anche anticipato durante la formazione del gruppo stesso, di attribuire a tutti i consiglieri, qualora fossero stati poi eletti, una delega proprio per avere un coinvolgimento di tutti e anche una distribuzione di quelli che fossero gli oneri e i compiti in campo a tutti i consiglieri. Quindi avremo cinque assessori e con ulteriori sei consiglieri con deleghe, consiglieri delegati appunto. Ecco, vice sindaco e presidente del consiglio comunale? Il vice sindaco sarà per acclamazione popolare Anna Chiara Mascarucci, che ricordiamo che ha ricevuto ben 740 preferenze, quindi un numero importante che fa capire bene quale sia l'attestazione di questa ragazza sul territorio. Mentre per quanto riguarda il presidente del consiglio sarà eletto a votazione la sera del consiglio che si terrà venerdì prossimo alle ore 8.30 presso l'ex municipio di Montemaggiore, nella sala consigliare. Ai consiglieri quali delega ha lasciato? Ai consiglieri delegati ho lasciato la sanità, le politiche giovanili, la valorizzazione dei borghi, i gemellaggi ai rapporti istituzionali, lo sport e l'ambiente. Anna Chiara, da assessora vice sindaco, una grande responsabilità? Sì, abbastanza. Ringrazio Pietro, il sindaco che mi ha dato questa possibilità e anche i cittadini che mi hanno dato fiducia votandomi. E sono state attribuite anche tante deleghe, su che cosa punterete? Sì, come amministrazione abbiamo sempre puntato per quanto riguarda le politiche sociali, abbiamo strutturato inizialmente appena ci siamo insediati l'ufficio dei servizi sociali, dove avevamo solo due persone a tempo indeterminato, adesso ne abbiamo cinque, di cui tre a tempo indeterminato e due a tempo determinato. sarà nostra intenzione continuare a proseguire il lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni. A fine mese uscirà anche la domanda per i buoni spesa.